Terza edizione di GP for Marco, Gran Premio for Marco, quest'anno è accompagnato anche da Fuori in Movimento, con noi Alessandro Conti, Misericordia di Pia Castagnaio, responsabile di Misericordia di Pia Castagnaio, ma anche familiare di Marco Furzi, un primo pensiero per Marco, a cui è dedicato a questa manifestazione con delle donazioni importanti. Sì, è la terza edizione che organizziamo questo evento, quest'anno abbiamo cambiato location, siamo qui a Parco Tematiche Queste, una nuova struttura dell'amministrazione comunale che l'ha messa a costa della disposizione e che ringrazia. Abbiamo deciso come famiglia di provare a fare l'evento qua, in tutto il parco, utilizzando la nostra montagna e il nostro pesco. Sono qua a Duplice Veste perché per gestire la massima sicurezza per i partecipanti siamo qua a gestire tutto il percorso sanitario, tutta l'assistenza e far sì che il percorso sia in totale sicurezza, con dei volontari, oltre che sanitari, dei volontari che sono organizzatori della manifestazione e amici nostri che ci hanno dato una mano per svolgere l'evento in sicurezza. In questo motivo, in questo momento voglio ringraziare i nostri amici, così ristorati, spiritualmente e fisicamente, rinvigoriti, recuperati. Avendogli proposto l'evento si sono messi a completa disposizione della nostra misericordia per supportarci e soprattutto a disposizione della nostra famiglia per supportarli a gestire questo evento. Ci hanno prestato del materiale, ci sono delle persone qua a disposizione nostra e volevo ringraziare Andrea Tonni che è responsabile di Abbadia San Salvatore, ma soprattutto volevo ringraziare il governatore Dalino Romani che ha messo a disposizione tutto il suo personale, tutti i suoi volontari e il suo materiale. L'obiettivo delle donazioni sono tre soggetti, principalmente donazioni volontarie, donazioni derivanti da una serie di contorno che c'è durante la manifestazione. Gruppo Afra di Pian Castagnaio, quindi donatore di sangue, reparto pediatria, abbiamo sentito il dottor Ciacci oggi, l'ospedale di notte da Montepulciano e poi l'atletico di calcio, l'estattistica atletico di Pian Castagnaio. Allora, è un percorso che ricorda la vita di marzo, sostanzialmente. Sì, sostanzialmente siamo partiti dal primo anno che abbiamo fatto la prima donazione all'AE che è all'ospedale dove lui era ricoverato e dal secondo anno abbiamo deciso di devolvere tutto l'incasso della festa alle associazioni del territorio dove lui faceva parte. l'anno scorso la misericordia di Pian Castagnaio, quest'anno i donatori di sangue dove doneremo un elettromedicale da donare al centro torfusionale dell'ospedale di Abbadia San Salvatore dove lui era donatore, una borsa all'atletico Pian Castagnaio, lui faceva il massacriore e quindi è un ricordo e in più abbiamo deciso di donare un manichino alla pediatria di Nottola perché siamo in collegamento con la pediatria di Nottola, la pediatria di Nottola ci ha proposto una cosa molto bella che è fare formazione pediatrica nel territorio di Pian Castagnaio e Linitro e come famiglia e io come misericordia abbiamo sposato appieno questa proposta perché secondo noi è una bella iniziativa che dovrà crescere e che tutela anche tutti i genitori e tutti gli insegnanti che sono nel nostro territorio imparando o almeno acquisendo le tecniche basi per poter intervenire in caso di bisogno. Con grande sostegno da parte della cittadinanza, non solo di Pian Castagnaio, l'ha ricordato più volte ma anche da parte di aziende importanti nel territorio. Abbiamo tantissime donazioni da parte del territorio, abbiamo avuto il supporto massimo della misericordia che sono io abbiamo avuto il supporto massimo dell'amministrazione comunale e infatti ringrazio sia il sindaco che gli assessori che l'ufficio tecnico e gli operai che in questi giorni si sono messi a completa disposizione per gestire l'evento e c'è da ringraziare anche tutte le aziende che ci hanno supportato e che ci consentono di poter fare la donazione. Certo, concludiamo. Proprio oggi, sto toccando nuovamente l'aspetto sanitario, l'amministrazione comunale, il riconoscimento a un volontario qui di Pian Castagnaio che ha fatto un corso di formazione, tornando al discorso nel tuo ammietto di lavoro che è l'Unione dei Comuni di Ammiata Valdoccia che ha permesso proprio quello che stavi dicendo tu, formazione che poi va applicata a interventi di urgenza e di emergenza. Lui, assieme al 118 e la misericordia di Pian Castagnaio avete salvato una vita nei primi giorni di luglio. Sì, la formazione è fondamentale nella vita. È anche il libero cittadino che ha voglia di fare formazione acquisisce quei principi base che in caso di necessità basta metterci un po' di coraggio, come è successo appena detto te, di salvare vite, permette di salvare vite. E anche la disostruzione delle vie aeree pedatriche e i farmaci salvavite in età pedatrica nell'ambito scolastico secondo me è fondamentale, perché può veramente accorciando i tempi, accorciando la catena del soccorso, i tempi della catena del soccorso possiamo veramente salvare vite. E la premiazione è una dimostrazione. Qual è il futuro di questa manifestazione secondo Alessandro Conti? Il futuro della manifestazione è continuare a crescere, continuare a convolgere le attività sportive, perché questa per noi è una giornata di sport, di solidarietà, e cercare di far più donazione possibile sul territorio e assistere anche a qualsiasi altra associazione che ha bisogno e che voglia partecipare a questo evento. Non siamo aperti a tutti. ricordo che per esempio oggi, stamattina, c'erano i ragazzi dei Prati e ci sono tutt'ora i ragazzi di Pogliana. Ci sono qua con noi, si sono divertiti, hanno fatto le prove dei vari sport, hanno mangiato con noi. Per noi lo scopo dell'evento è ricordare Marco, guardare il sociale, perché Marco puntava tanto al sociale. E quindi è lo scopo, siccome lui faceva parte di tutte le associazioni, perché faceva parte del calcio, faceva parte della podistica, faceva parte delle mountain bike, faceva parte della misericordia, faceva parte dei donatori, guardare tutte le associazioni che hanno risposto in maniera positiva, guardare le associazioni, portarle avanti e vivere nel sociale, donando tutto al sociale.